Sardegna Sardegna Spesso con le tigre risolviamo i tigini nella maniera peggiore e questa è un'altra strumenta di nuovo è un'altra roba bianca che se non c'è una famiglia avrebbe fatto il gesto di sparare e la persona riuscita in parte e l'altra parte ha sparato in testa suonare le ssse i restituz i No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.